Bruno Allievi, Porada, cosa presentate al Salone del Mobile quest'anno? Quest'anno abbiamo cercato di accontentare un po' dei nostri progettisti e abbiamo presentato parecchie specchiere e poi parecchi mobili in legno noce canaletta. I nostri architetti hanno la mano libera per cui se presentano anche materiali diversi dal legno li accettiamo volentieri. Per un'idea di casa tradizionale o anche trasversale? Indubbiamente trasversale perché vediamo che anche gli abbinamenti di vari architetti che disegnano uno a un pezzo e l'altro rientrano tutti poi nel filone della Porada. Questa fiera appunto nonostante il tempo di crisi sembra gremita di persone, hanno ancora senso le fiere? A mio avviso è ancora forse l'elemento fondamentale, noi ne facciamo un po' in tutto il mondo, ne siamo molto contenti, è sempre una spesa rilevante ma è forse l'unica spesa che vediamo subito il riscontro. Vediamo subito dall'affluenza del pubblico, dagli ordini, se abbiamo indovinato la scelta del materiale, le stoffe, i marmi eccetera. Ci sono mercati che apprezzano in particolare lo stile Porada? Sì, direi un po' in tutto il mondo, in modo particolare l'estremo oriente, la Russia e per noi adesso comincia a diventare interessante il mercato africano. Il mercato nuovo però diciamo che nel 2009 che poi si sta riflettendo sul 2010, l'impulso nuovo per noi è arrivato proprio da lì. Abbiamo cominciato già tre anni fa con Sudafrica e poi con Nordafrica, adesso anche con degli stati centrali che pensavamo fosse ancora prematuro, invece si riesce a fare dei buoni lavori.